Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia, i governi regionali si sono insediati, è quello nazionale pure, questo è il periodo delle grandi proposte, si parla di Ponte sullo Stretto, si parla di tante cose, adesso qua in Sicilia a Palermo si parla del tema, quello attuale proprio di questi ultimi giorni, la privatizzazione dell'aeroporto Falcone-Borsellino, un tema certamente importante, interessante, cerchiamo di capire se e come è possibile realizzare questa privatizzazione, come se è vero che questa privatizzazione sia in qualche modo legata a tutto quello che è roto attorno e iniziare proprio dal caro voli. E lo facciamo con delle persone assolutamente qualificate che seguono l'aeroporto già da tantissimi anni, abbiamo Giovanni Scania che è l'amministratore delegato di GESAP, colui che ha gestito proprio in questi anni di transizione lo scalo aeroportuale, poi Gianluca Colombino, sindacalista della CISAL e anche lui da tantissimo tempo segue le vicende dell'aeroporto, non soltanto chiaramente dei dipendenti ma di tutto quello che è roto attorno, quindi sono persone che sanno sicuramente quello di cui parliamo. E allora iniziamo, io inizierei direttamente da Giovanni Scania perché quello che si sente appunto in questi giorni è importante perché mette un po' un bilancio diciamo di tutto quello che è stata l'attività di questi cinque anni, di questi cinque anni possiamo dirlo? Io sono da una decina, l'amministratore delegato da quattro, prima sono stata in GESAP, ho girato un po' all'interno dell'aeroporto. Perfetto, però dico da amministratore delegato sono... 2018. 2018, quindi appunto. E quindi dico un po' un bilancio perché adesso è stato detto, sono state dette tante cose e quindi cerchiamo di capire come vanno le cose. Allora io qua c'è un prospetto dove si dice che nel 2013 c'erano 4 milioni e 300 mila passeggeri, nel 2019 boom 7 milioni e 3 mila passeggeri. Allora questi non sono numeri diciamo che si ottengono così casualmente, no? No, devo dirti che diciamo l'aeroporto è veramente in un momento d'oro, eccezionale. Noi abbiamo iniziato un percorso di crescita proprio dagli anni diciamo 2013-2014 dovuto anche molto a un focus commerciale, quindi anche con tutto lo sviluppo delle low cost ma anche delle compagnie di bandiera che ci ha portato veramente a numeri strabilianti perché proprio nel periodo che dicevi tu siamo cresciuti il triplo del mercato, quindi il 61% mentre nel mercato è il 23%. Abbiamo avuto la pandemia, la pandemia siamo calati, siamo calati meno del mercato, diciamo abbiamo retto meglio e oltretutto l'abbiamo gestita alla grande anche dal punto di vista sanitario, dal punto di vista di investimenti che abbiamo continuato, tu consigliate nel 21 abbiamo avuto il premio Best Airport d'Europa, da parte sia Europe, l'organizzazione di cui del tutto mi pregio di essere nel board degli aeroporti europei e nel 22 siamo ripartiti e fra pochi giorni supereremo i valori del 19, tu consigliate che ancora l'Europa arranca a meno 20% rispetto al 19, quindi c'è una situazione di traffico pazzesca, un centinaio di rotte, una possibilità di mobilità enorme e oltretutto che si unisce non solo al fatto traffico, possibilità di partire a Norimberga piuttosto che a Valencia, quindi in posti anche che erano difficili da raggiungere con poco costo, ma anche tutta una situazione di investimenti veramente imponente, noi stiamo facendo un piano di investimenti finanziati, totalmente in autofinanziamento, perché noi siamo passati dai 10 milioni di perdita di quegli anni ai 6 milioni di utili dell'anno scorso o tutto il 22 si chiuderà con un utile stra record, forse arriveremo addirittura intorno ai 10 milioni, quindi a cifre ancora più importanti. Da meno 10 a più 10. Da meno 10 a più 10, quindi una valorizzazione impressionante, abbiamo investito questi soldi e ci hanno dato una mano unicredit intesa che ovviamente per dare i soldi vi devi anche convincere, diciamo che c'è una corretta gestione e che tutto funzioni e come avrete letto, stiamo facendo la cosa di cui sono più orgoglioso per i passeggeri, tutti i ristoranti che apriranno la prossima estate, che sarà tutta una schiera di ristoranti di stamare, che è veramente un unicum che abbiamo, con le migliori multinazionali del settore che hanno partecipato alla gara, con il supporto dei player locali, quindi il Planeta, il Ciccio Sultano, due stelle Michelin, lo street food che per noi è fondamentale, più tutta una serie di altri ampliamenti, investimenti fotovoltaici, investimenti ambientali e nuovi sistemi di sicurezza, stiamo montando in questi giorni i sette nuovi pontini. Quanto vale adesso l'aeroporto di Palermo? L'aeroporto di Palermo oggi ha un EBITDA che è diciamo oltre 20 milioni, quindi siamo a 22-23 milioni, che come dicevo quest'anno sarà il record ancora meglio degli anni precedenti, di solito si fa su un multiplo di questo valore, parliamo di svariate centinaia di milioni di euro, se non mezzo miliardo. Considera che l'aeroporto era stato valutato nel 2013 120 milioni, quindi è chiaro che in questi anni si è quadruplicato il suo valore, però è un valore che non ti posso dire, ha fatto un'analisi, non lo so, ha fatto un'analisi molto di dettaglio, e sicuramente consiglia che per esempio questi ristoranti daranno un'esplosione dei ricavi, perché ovviamente tu sarai più propenso a consumare cibo buono, diciamo di qualità. Passiamo al sindacalista, questa voglia di privatizzazione è legata al caro voli, è un argomento che vi convince? In alcun modo no, assolutamente, lo abbiamo dichiarato anche attraverso dei comunicati stampa, ma al di là di quelli che sono gli slogan che possono più o meno essere lanciati, è un dato di fatto il fatto che non esiste un rapporto diretto tra la privatizzazione di uno scalo, piuttosto che non con il concetto di... Cioè se io domani faccio la privatizzazione, io al prossimo Natale avrò prezzi a 200 euro, a 100 euro, a 70 euro? Non si pensa di intervenire sui vettori aerei che sono quelli che fondamentalmente determinano il prezzo, diciamo, di una tratta, magari dipendesse dall'amministratore Giovanni Scalia che abbiamo qui presente, sarebbe molto più semplice forse, in quanto anche lui è cittadino di questa città, abitiamo entrambi a Palermo ed entrambi avremo sicuramente... Quindi il scalo vuole dipende dalle compagnie aeree? Dipende solo e esclusivamente dai vettori aerei, a me piuttosto è sembrato un'ottima scusa, diciamo, per cercare di lanciare immediatamente un percorso di accelerazione che è evidente, diciamo, è all'ordine del giorno, è nell'agenda, visto che il termine che si usa in politica è sempre questo, del presidente Schifani, ma che lo è in un momento assolutamente sbagliato, proprio per i dati certi che forniva lei in apertura con quel grafico che ha visto un più 62% negli ultimi nove anni e che è un più 62% che era ancora in crescita, cioè c'era un dato che ci avrebbe visto sicuramente arrivare nel giro di altri due o tre anni prima della pandemia e quindi già nel 2022 probabilmente sulla soglia dei 10 milioni di passeggeri. Anche oggi mentre lo scalo di Catania magari rimane, noi continuiamo ad avere un trend ancora, rimane su alcuni valori per carità, diciamo, non voglio assolutamente alimentare questioni diciamo campanilistiche in questo senso, però dico certo va anche benissimo per carità anche Catania, però sicuramente il trend di maggiore crescita è quello dello scalo aeroportuale di Palermo. Il perché? Il perché è molto semplice. In passato noi ricordiamo di alcune situazioni che nei fatti oggettivamente vedevano una gestione un po' più allegra, noi in passato lo abbiamo denunciato, c'erano le società di gestione che si concentravano sulle consulenze piuttosto che non su altre cose, sono tutte cose agli onori della cronaca, diciamo che hanno anche determinato dei processi che ancora oggi sono in corso per cui attendiamo, ad esempio la mia organizzazione sindacale è parte civile in questi processi ed è stata, me lo faccia dire, il dottore Marchese, la prima volta che un'organizzazione sindacale si è messa parte civile nell'ambito di un processo di questo tipo. In passato dicevo c'è stata la volontà di accelerare verso questo percorso di privatizzazione e purtroppo abbiamo visto diciamo come è finita con delle stime che chiaramente erano al di sotto e non rispecchiavano quello che poteva essere potenzialmente il valore di questa società. Quindi possiamo dire con certezza una cosa che è la privatizzazione non porterà un risparmio per i biglietti aeree. Questo è un dato che pur non essendo un economista le posso in assoluto certificare, non c'entra assolutamente nulla quella che è la quota che bisogna pagare per un biglietto aereo rispetto a quella che è la gestione privatistica. Però in Sardegna qualcosa è cambiato. A questo proposito diciamo un concetto di base che ho evidenziato anche in qualche altra situazione è proprio questa. Il concetto di insularità della Sicilia ce l'ha anche la regione Sardegna dove però a differenza di quello che è stato fatto negli ultimi anni nell'ambito della nostra regione c'è stata qualche amministrazione un po' più attenta non già alla logica della privatizzazione ma a quelle che sono le esigenze dei cittadini e quindi dei residenti nella regione c'è stata qualche amministrazione regionale che è intervenuta stanziando dei fondi per la continuità territoriale e quindi garantendo la possibilità ad esempio a un Sardo, a un lavoratore che avesse necessità di recarsi molto spesso sulla tratta Cagliari-Roma piuttosto che non Olbi a Roma, piuttosto che non Cagliari-Milano, su queste due tratte soltanto interveniva la continuità territoriale però garantendo la possibilità che la spesa fosse sempre comunque uguale, erano 70 euro per ciascuna tratta che erano una spesa certa come Palermo-Lampedusa, Palermo-Mantellania. Assolutamente sì, non può essere, non si può accettare una logica secondo cui la politica politica invoca, che è espressione di un consenso che viene dato dai cittadini e quindi l'amministrazione politica, invoca l'ingresso dei privati affinché vengano sostituite dei manager che fondamentalmente sono stati nominati nel tempo proprio anche lì sempre e comunque alla politica. Il dato è che non si può generalizzare, non sempre le gestioni politiche hanno portato i bilanci al collasso, non sempre le gestioni private hanno garantito competitività. Io credo che questa equazione il Presidente Schifani se la dovrebbe fare spiegare un po' meglio. Bene, in questo periodo, in questi ultimi giorni siamo ormai a scadenza, perché tra qualche giorno ci saranno le nuove nomine, quindi ci potrebbe essere la riconferma, ci potrebbe essere un cambiamento. Lei che bilancio si sente di portare a chi è che sono proprio alla società, anche al Presidente Schifani, al Sindaco di Palermo, a Galla e agli altri soci. Io devo dirti che sono molto soddisfatto del lavoro di questi dieci anni, ho svariate esperienze professionali, ho lavorato molto tempo fuori Palermo, ho anche avuto la possibilità poi di tornare, sono anche imprenditore, ho lavorato anche all'estero, questa è stata di gran lunga l'esperienza più emozionante e più gratificante che ho avuto, nel senso che alla fine l'aeroporto oggettiente abbiamo avuto un turnaround impressionante, cioè una situazione, io quando sono arrivato come consigliere di amministrazione, ero oggettiente un'azienda, primo bilancio meno 10 milioni, insomma, forse aspetta, pensiamoci un attimo, siamo riusciti a svoltare totalmente, svoltare totalmente perché oggettiente c'è una squadra in GESAP di grandissimo valore, devo dire a partire dal direttore generale che è una figura veramente invidiata da tutti gli aeroporti italiani ed europei con 30 anni di esperienza nel settore, agli impiegati, gli ingegneri, gli altri dirigenti, sono persone veramente valide e che siamo riusciti a valorizzare nell'attività. Abbiamo portato un'azienda alla sicurezza economica, cioè l'azienda è solida, l'azienda può campare per tantissimi anni, può continuare a fare investimenti importanti, io non so se vi ricordate, diciamo com'era l'area Rivi, quell'area Rivi scura, cioè l'area Rivi è fantastica, c'è tutto quel rente car, tutte quelle aree bambini, le cose che ha messo Catamano, diciamo che è venuto a mancare quello pochissimi mesi fa, insomma, veramente è diventata un'area confortevole, immaginatevi come sarà l'area Ristoranti fra poco, siamo diventati un punto di riferimento per i vettori aereici, io mi sento costantemente con il Presidente di Wizz Air e piuttosto che abbiamo stato il delegato di Volotea, ci abbiamo dei rapporti di partnership stretti, l'anno prossimo avremo dei numeri stra super record rispetto ai numeri di questa, ma stra super record perché abbiamo già chiuso due accordi veramente impressionanti, abbiamo una situazione con i lavoratori veramente positiva, noi diciamo Gianluca lo sa e anche con l'altra organizzazione sindacale abbiamo fatto il primo accordo di welfare della storia, che è stata veramente una cosa fantastica nel 2019, abbiamo anche affrontato i momenti difficili con la privatizzazione, nel mentre ho avuto anche un passaggio diciamo che è stato molto carino nella società di handling, diciamo partecipata da GESAP in cui quando sono arrivato c'erano 37 lavoratori in causa, quindi diciamo sono arrivato e non era proprio l'ambientino ideale, ricordo, raccontiamo anche un gossip, che mentre le altre organizzazioni sindacali erano molto più positive, con Gianluca ci siamo quasi presi a pugno di una volta e poi si è convinto che era il caso di, nell'interesse aziendale, diciamo trovare una quadra normale, e quindi devo dire, con diciamo anche con la proposta di sindacati abbiamo veramente, anche là un'azienda che perdeva un milione di euro, il socio privato mi ha detto Giovanni, io sono contento e tu sei presidente e ti voglio dire che sto valutando di mettere le liquidazioni, ti aspetto un attimo, 300 lavoratori ragioniamo, quindi anche là siamo riusciti a fare un percorso incredibile e un bene per i cittadini perché poi è chiaro che l'albergato fa ruggio e diciamo tutti sono contentissimi perché gli alberghi sono pieni, i ristoranti sono pieni, i ristoranti sono pieni, ovviamente c'è una città che è veramente attrattiva, c'è Agrigento, c'è Trapani, c'è tutta un'area molto bella, quindi un percorso che si fa, quindi per me è stata veramente... Quando si sente, si sentono e si leggono delle cose poco lusinghiere come in questo ultimo periodo, come ci si sente invece? No, vabbè, diciamo, certe volte... C'è molta critica, abbiamo letto... Sì, diciamo, certe volte secondo me, io diciamo, sono intervento in alcune escursioni perché a volte è utile chiarire le cose, nel senso che tu hai parlato correttamente... Il bilancio sembra positivo, detto qua, però poi si arrivano delle... Tu hai parlato chiaramente... Degli attacchi che stavano poco lusinghiere... Chiaro, chiaro, e diciamo questa è una cosa, diciamo siccome è utile informare, è utile dire che l'aeroporto è un'eccellenza, non un'eccellenza palermitana che già lo è, è un'eccellenza internazionale, cioè noi abbiamo vinto il premio Best Airport d'Europa, cioè tutta Europa, il mio aeroporto è 5 dicioni d'Europa, io, lasciate stare io, sono nel board dell'Associazione Europea degli Aeroporti a rappresentare Palermo e la Sicilia, cioè insieme a Parigi, in Stambul, quindi ovviamente, diciamo, sono riconoscimenti, quindi noi siamo, chiaro, e c'è, siccome ci sono 250 persone, che poi sono quelle di Gesa, per me è tutta una comunità di migliaia di persone, che vi posso assicurare che nell'alte realtà aeroportuali non c'è questa community, non c'è questo attaccamento agli aeroporti, tu vai ai aeroporti del nord Europa, del nord Italia, il lavoratore è là, poi se ne vuole andare, entra, da noi c'è un senso forte, è importante che questo senso forte venga valorizzato, venga valorizzato l'impegno, c'è gente sui lavori che veramente si ammazza, si ammazza per i lavori portarli avanti, il minuto di stadio, fare i lavori nel mentre ci sono i passeggeri, c'è un inferno, è come se uno ha a casa gli operai, mentre vive con la moglie e i due bambini che corrono, quindi è corretto dare a Cesare quel che è di Cesare, siamo in una situazione di azienda assolutamente, veramente un gioiellino che lavora benissimo e che porta economia, perché quei 7 milioni di passeggeri valgono quasi 4 miliardi di pil territoriale, perché ognuno porta, diciamo secondo i suoi, più di 500 euro, diciamo, valgono 7 mila lavoratori fra diretti e indiretti, noi per fare esempio, proprio con Gianluca, l'altra organizzazione sindacale, abbiamo stabilizzato 62 persone nella società di handling, proprio per questo aumento estivo del lavoro, in GESAP c'è un piano di 40 assunzioni perché dobbiamo inserire ulteriori risorse, è veramente, in più consigliate le compagniere, le persone che metto, i ristoranti nuovi, che saranno spazi nuovi. Certo, per investire anche in ristoranti effettivamente la cosa, diciamo, funziona. Ma chi è che viene a comprarsi l'aeroporto di Palermo? Ma non si sa, tempo fa ricordo che c'erano delle sirene, che oggi forse di una popolazione che se non sbaglio è in finale mondiali, erano argentini se non ricordo male, diciamo quelli che erano impredicato a suo tempo, sembrava fossero già dietro l'angolo, ma il tema non è chi viene, la verità è che per noi la privatizzazione non è un tabù, il tema è che le cose non si fanno in maniera frettolosa. Noi abbiamo lanciato un'altra proposta, ad esempio, perché non ipotizzare una quotazione in borsa di un'azienda che ha dei bilanci, che come diceva poco fa l'amministratore, sono assolutamente inattivo, 10 milioni di euro quest'anno, l'anno scorso, sono stati 7. Giusto? Dico quindi fondamentalmente parlano i numeri rispetto a questo. Noi non vorremmo che dietro tutto questo, anche, ripeto, l'ipotesi di lanciare una quotazione in borsa, secondo me vedrebbe tanti investitori fare le corse per cercare di investire su qualche cosa che ribadisco, se gestita bene, ha già dimostrato che è una società che non può andare in passivo, ecco questa volta lo dico in maniera corretta, che non può andare in passivo, solo e esclusivamente tutta una serie di artifici in passato sembrava o volessero diciamo così relegarla a una società, era stata battezzata la mangiatoia con le ali da alcuni blog, c'erano tutta una serie di apprezzamenti assolutamente pesanti che peraltro offendevano anche quello che era l'operato, e lo ringrazio l'amministratore per averlo fatto, che va difeso da parte dei lavoratori dipendenti della gestione aeroportuale e anche delle società di handling, vede dottore mi faccia fare una precisazione, sono due i temi fondamentalmente, bene ha fatto l'amministratore a sottolineare che attorno alla società di gestione c'è un indotto, la società che gestisce i servizi, che è quella dell'handling più grande, ce ne sono due, adesso ne è arrivata di recente un'altra, anche se in questo momento è marginale perché gestisce solo una compagnia, però dico comunque sia sono tre le società diciamo di handling che operano con una certa continuità nell'aeroporto di Punta Raisi, hanno all'incirca 350 più 50 sono 400, 425 dipendenti sono all'incirca, più il personale stagionale, quello che viene chiamato dei periodi di picco e quindi nell'ambito della summer e della stagione estiva per l'appunto. Tutti questi lavoratori sono quelli che fanno dire a lei come a me, se non fossimo degli addetti ai lavori, se l'aeroporto funziona o meno. Il tema vero è che quando il presidente Schifani nel suo intervento sottolinea la necessità di garantire efficienza piuttosto che non servizi al personale in transito e parla della privatizzazione come Panacea, purtroppo non è stato informato che la stragrande maggioranza dell'efficienza rispetto a quello che è la soddisfazione, il customer care del passeggero in transito è garantita anche e soprattutto dalle società di handling, per cui lui parla di cose sulle quali probabilmente non è stato ottimamente informato, però su una cosa è stato informato a mio avviso e la la butto lì come provocazione non è una questione ovviamente personale o di contrapposizione, io sono pronto a sedermi e a cercare di approfondire i temi con chiunque, è ovvio nessuno di noi si può scegliere in interlocutori, noi rappresentiamo comunque l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa grazie al consenso che ci è stato dato dai lavoratori dello scalo di Palermo e io la butto lì, io non vorrei che dietro questa fretta di andare avanti verso il percorso di privatizzazione non ci sia dietro dell'altro, ad esempio una delle teorie che vengono fuori, e non sono un complottista io, è quella che c'è un problema molto serio che il governo regionale deve affrontare che è quello dello scalo aeroportuale di Trapani-Birgi, uno scalo che nasceva con una vocazione ben precisa, che era quello di un aeroporto militare e che nel tempo alcune volontà di natura, diciamolo pure, prettamente politica perché stiamo parlando di uno scalo che è a 45 minuti da Punta Arrasi per essere chiari, diciamo, e quindi dico troppo limitrofo, diciamo per vedere un ragionamento in termini di competizione, dico questo scalo che nasceva con una vocazione militare è stato successivamente dalla politica riempito di tutta una serie di impegni rispetto a garanzie anche in termini di aviazione civile, e tutto questo fatto sì che ci siano stati degli investimenti anche in termini di risorse umane, delle assunzioni da parte dei lavoratori, che però nei fatti hanno comportato e stanno continuando a comportare da un decennio dei bilanci, lì sì, ancora una volta, in passivo. La Corte dei Conti ha appena scritto su questo, io non vorrei che rispetto all'ipotesi già caldeggiata da Schifani o da qualche super mega consulente, che magari ogni tanto qualcuno farebbe anche bene a mio parere al di là di tutto, piuttosto che non a dispensare sempre e comunque perle di saggezza che vanno sempre in un'unica direzione, potrebbe anche godersi la pensione qualcuno, ripeto. Io credo che fondamentalmente non bisogna parlare di fusioni a freddo descrivendole come delle soluzioni, la fusione a freddo tra l'aeroporto di Palermo e l'aeroporto di Trapani a mio avviso determinerebbe un enorme problema su una cosa che funziona, rispetto a una cosa che in questo momento ha bisogno di altri correttivi e di altri interventi. Io vi ringrazio davvero tanto, ringrazio l'amministratore delegato Giovanni Scalia di essere stato con noi e anche Gianluca Colombino, appunto, grazie alla CISAL. E allora io vi auguro davvero una buona giornata e alla prossima puntata.